She's Jewel è una mostra fotografica dell'artista Lucerino Giuseppe Petrilli. A che cosa ti sei ispirato e soprattutto possiamo notare che le tue muse sono sempre donne. Perché? Innanzitutto questo per me è un esperimento perché io non sono fotografo, sono essenzialmente artista figurativo, quindi disegno e dipingo. Però la foto per me è sempre stato un mezzo importante, infatti io parto dalla foto per poi realizzare le immagini. Quindi facendo questa operazione mi sono reso conto spesso che alcune foto devono rimanere tali, quindi disegnandole perderebbero un po' la loro allure. Quindi ho pensato di approfondire un po' di più il discorso fotografico, ecco da cosa nasce questa mostra, questo esperimento. Poi mi piaceva il fatto di presentarlo in un posto inusuale. Io di solito cerco sempre dei posti che non siano le gallerie, insomma cerco sempre qualcosa di non convenzionale per presentare le mie cose. e c'era questo spazio bellissimo, questo spazio multimediale che è il Combo Studios. Ho proposto questa cosa, i ragazzi ci hanno accolto subito questa mia proposta e quindi è nata questa mostra e esperimento perché sarà un misto di foto stampate ma anche proiettate, quindi è un misto di eventi. Poi vabbè le donne, io sono quest'anno, sono 11 anni che faccio arte erotica. Sono stato un po' un pioniere nella nostra città perché insomma 11 anni fa era impensabile che qualcuno potesse fare arte erotica. Temevo che la cosa non potesse avere un grande successo, invece devo dire che fin dall'inizio la cosa è stata apprezzata. Poi un po' alla volta ho avuto anche l'opportunità di avere delle modelle vere su cui insomma lavorare e scattare direttamente. Infatti per me è importante il fatto, e lo voglio sottolineare, il fatto che la maggior parte di queste modelle, anzi tutte queste modelle sono ragazze della zona, quindi della capitanata. Questo mi riempie d'orgoglio, quindi anche queste sono le bellezze della nostra terra. Spesso noi donne abbiamo con il nostro corpo un rapporto conflittuale. Allora ci sono stati degli imbarazzi magari nello scattare, nel realizzare queste foto? Allora guarda, io come dicevo è da tanti anni che faccio arte erotica e dipingo e celebro la bellezza femminile, quindi ho capito un po' la psicologia femminile, un poco, non tantissimo. Molti sono i motivi che spingono una ragazza a voler posare per me, che la spinge a mettere il proprio corpo a disposizione dell'arte, quindi fare in modo che qualcuno lo trasformi in opera d'arte. Il motivo principale è che magari può essere una sfida con se stessa, oppure la modella può vivere un momento un po' particolare, quindi ha bisogno anche di riscoprire, oppure ha voglia di vedersi sotto un altro aspetto che magari non ha mai messo in risalto, quindi diciamo è l'occasione buona. Però diciamo imbarazzi, io dico sempre che l'erotismo è innanzitutto leggerezza e divertimento ed ironia, che c'è sempre alla base di tutti i miei lavori, quindi io cerco di inculcare anche in loro questo atteggiamento. Devo dire che molto spesso ci riesco, anche perché penso che da queste foto si possa capire che loro lo fanno proprio con leggerezza e con divertimento. Invece per quanto riguarda il pubblico ci sono degli imbarazzi magari nello spettatore? Io ci gioco molto su questa cosa, io faccio proprio cose che puntano, io punto ad imbarazzare lo spettatore, comunque diciamo a fare in modo che punti un po' il dito contro di me, diciamo è un gioco che ingaggia un po' con chi viene a vedere le mie opere. Poi diciamo gioco anche molto sulla curiosità dello spettatore, c'è anche sempre il totomodelle, quindi questa è un'altra cosa che caratterizza sempre chi viene a vedere le mie cose.